Tifosi giallorossi ben trovati dallo Stadio Olimpico per questo Roma-Napoli importantissimo è un grande un buon momento per la Roma. L'appoggio poi il tentativo di conclusione che termina fuori non di tantissimo il Justin Kluivert. Il pallone lungo qui, trasforma una zona difensiva in offensiva, possibilità di andare all'appoggio dietro, Zagliolo, 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 un supergoal di Nicola Zagliolo, che la piazza sotto l'ingredo dai bari, è ancora lui! Attenzione a Kolarov, cerca direttamente in porta! Meret! C'è un tocco di mano da parte di Caglion, vediamo un po'. Sì, sì, è rigore. Calza di rigore per la Roma! Kolarov, la sua rincorsa e la parata da parte di Meret, maledizione, l'errore di Alexander Kolarov. Il cross in mezzo, è un pallone sul secondo palo, il colpo di testa, il salvataggio di Smalling e ancora Koulibaly. Condizione regolare per il Belga, attenzione a Meret, il cross sul secondo palo per Milik, traversa e palla che rimane lì, e poi la conclusione al volo, il palo da parte del Napoli! L'appoggio per Pastore, 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 Pastore! Rigore, qui c'è il cazzo di Rigore sul crozzo di Pastore, il tocco, la grinta del placo! È pronto per Redou la conclusione! Goal! 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 L'appoggio centrale, possibilità, attenzione a Klaivert, c'è il largo segnalo, Klaivert! Goal! Da parte di Justin Klaivert, Roma vicino al 3-0. Lozano, Lozano entra nel rigore pericoloso, la conclusione è che c'è il Napoli che ha corso le distanze, alla dentro pericolosa, come butta fuori Sedin, eh sì, rosso per Sedin, due gialli, pronto Milik, la punizione di Milik, c'è la direzione fondamentale, è come un gol questo, Alessio, perché la punizione della pericolosa vince qua, e la Roma vince, e la Roma vince, la Roma vince anche con il Napoli, la formazione di Paolo Fonseca non si ferma più!